PEGI 18 Ci avevano avvertito che saremmo giunti a questo. Che un giorno il mondo come lo conoscevamo sarebbe finito. Un virus usato come un'arma. Siamo caduti uno dopo l'altro. Tutti contro tutti in un'orribile lotta per la sopravvivenza. Finché la nostra società non è andata in pezzi. Era il segnale che la vita che avevamo condotto fino ad allora era finita. Noi siamo stati chiamati come ultima speranza. Noi siamo agenti di Vision. Non sappiamo quanti di noi siano in giro. O cosa serva per salvare quello che ci resta. Ma una cosa la sappiamo molto bene. Non possiamo essere la speranza di domani se non combattiamo oggi. Noi siamo agenti. Noi siamo agenti. Grazie a tutti.